Siamo sotto l'ufficio scolastico provinciale di Prosinone, come segreterie provinciali CGL, Cisla, Will, Gilda e Snalz per protestare contro le manovre che è messa in atto dal governo sulla scuola, che come al solito parlano solo ed esclusivamente di tagli. Il 24 faremo una manifestazione nazionale unitamente allo sciopero a Roma, ma ci premeva come segreterie provinciali far emergere i problemi della scuola sociala, la scuola che si trova in estrema difficoltà. Il problema non è solo occupazionale, centinaia di precari che stanno a casa, oramai da sbagliati anni, ma è un problema proprio di servizio pubblico essenziale come quello della scuola. Le motivazioni dello sciopero quindi non sono solo il recupero degli scatti di anzianità, la cancellazione delle norme sul decreto di stabilità, ma soprattutto rivendicare il ruolo centrale della scuola pubblica in Italia e per cui siamo qui oggi nella provincia di Prosinone in particolare.